e io che cazzo ne so ma facevi video con lui fra ma facevi video con lui fra io lo conosco lui però c'è il covid amico mio eh no il covid ci sta frate il covid ci sta porco dio se esiste mia madre è morto per il covid eh che cazzo dico no li dico si perché è successo davvero porco dio quindi magari evitiamo porca miseria non va bene cosa è successo davvero è morto 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 non è morto però è stato ricoverato tre mesi per il covid ok però è stato ricoverato tre mesi e io ho paura sai non è che vorrei pringare anche io il covid e stare ricoverato tre mesi me lo stai dicendo tu che ce l'hai abbassata io stavo fumando adesso la tiro su l'ho scroccata poppi poppi l'ho scroccata l'ho scroccata o lu believed in requisito ma avete lo scroccato parrot la rispetta però rispetta 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 rispetta